Sicuramente un'iniziativa che lascerà un po' il segno perché sarà la conclusione di un anno importante per la nostra città, per il calcio femminile in questa città, perché è stato un anno veramente emozionante e quindi quest'anno sicuramente coronare con un'iniziativa benefica, vedendo gli attori come nazionale nella nostra città è sicuramente motivo di orgoglio per noi. Le ragazze a Maranto sono pronti a scendere nuovamente in campo, questa volta però per un evento solidale. È infatti in programma per venerdì 25 giugno alle 21 allo stadio comunale città di Arezzo la partita benefica Arezzo calcio femminile contro nazionale attori. Senza dubbio noi abbiamo visto queste persone di spicco diciamo solamente in televisione quindi per noi sarà un onore ma la cosa principale è quella che diciamo tutto il ricavato sarà appunto devoluto al calcio di Arezzo e questo sarà appunto fondamentale. È bello ripartire anche con la solidarietà a favore del calcit che è la nostra storia e purtroppo sono mancati i mercatini in questi mesi, lunghi mesi di pandemia e quindi questa sarà un'iniziativa che darà nuova linfa anche al nostro comitato per la lotta contro i tumori. Grazie all'Arezzo calcio femminile che si mette a disposizione per questa bella iniziativa dopo una stagione direi esaltante nel campionato di Serie C, grazie a Massimo Anselmi al presidente appunto che è sempre una persona pronta quando c'è da dare una mano per la città e grazie alla nazionale attori sarà un onore ospitarla ad Arezzo per questo evento appunto di solidarietà, sport e spettacolo. Voglio sottolineare che tutto questo incasso, la cosa che viene da questa serata verrà devoluto interamente al servizio a scudo. Il servizio a scudo come tutti gli arettini conosceranno e non oltre gli arettini anche delle vallate è un servizio per l'assistenza H24, 365 giorni all'anno, assistenza domiciliare agli malati oncologici terminali.